Abbiamo votato un'importante variazione di bilancio, il contributo che il Ministero girerà alla nostra provincia per la ricostruzione dell'Istituto Raffaello di Urbino, che era stato chiuso a seguito delle verifiche sismiche. Incameriamo questi 5 milioni di euro che si vanno ad aggiungere ai 2 milioni già messi a bilancio dalla provincia per la ricostruzione integrale dell'edificio. Contestualmente inseriamo a bilancio altri 700 mila euro per l'acquisto dell'Istituto delle Maestre P.E. Venerini, sempre di Urbino, che accoglierà temporaneamente gli studenti in attesa della ricostruzione del nuovo edificio. Ci dovremo concentrare necessariamente su Fano, questa è la volontà del Consiglio Provinciale. Attualmente gli studenti sono divisi in treplessi con evidenti disagi da parte di tutti, studenti, famiglie, in particolar modo gli insegnanti che devono spostarsi da un plesso all'altro. La provincia aveva già messo a bilancio 2 milioni di euro per partecipare al bando promosso dal Ministero. Io ho chiesto espressamente che questi 2 milioni rimangano a bilancio proprio per l'edificio Nolfi e che la progettazione acceleri, quindi di portare sullo stesso piano sia il Nolfi che il Raffaello, quindi di redigere quanto prima il progetto definitivo che può dare il via quindi ad un'eventuale poi gara per l'assegnazione dei lavori. Utilizzando se serve anche questi 2 milioni per fare un primo stralcio eventualmente esecutivo per la realizzazione del nuovo istituto. Parallelamente dobbiamo riaprire il tavolo tecnico con le istituzioni scolastiche perché la situazione che si è creata a Fano è assolutamente provvisoria, però chiaramente questa è una situazione che non può durare a lungo quindi sostanzialmente dovremmo rivederci per capire se anche Fano ha la disponibilità di un edificio che possa accogliere gli studenti in maniera provvisoria in attesa che si concluda questa operazione di ricerca dei fondi per costruire il nuovo edificio. Quindi ecco il messaggio che vogliamo lanciare come Consiglio Provinciale perché in questi prossimi giorni, in queste prossime settimane ci sarà tutta la volontà da parte del Presidente e dei consiglieri di trovare soluzioni che possono migliorare l'attuale situazione scolastica per i ragazzi del Nolfi.